Oh, spero che non si sia accorto che gli ho fregato il cellulare. Sono un incognito sul canale di Scorpione 1981 e oggi parlerò io di calcio. Facciamo un po' di pronostici di partite e non so, stasera gioca al Milan. Per voi il Milan che fa? Quale sarà il vostro... Ma scusa un attimo, eh. Che c'è? Oddio, l'ha scoperto! Oh, silenzio! Ma scusate, eh. Ma Chiara, ma come mai hai fatto... Cioè, stai facendo il video con il mio cellulare? Ah, perché il tuo cellulare? No, così, ti dicono. No, non è il tuo cellulare. Il passaggio hanno detto che... È arrivato un ocellino e ti ha detto che stavo facendo un video con il tuo cellulare? Eh, mi sa di sì. Beh, allora, stavo parlando appunto di partite, pronostici... Sì. Do la parola a te a questo punto. Ma, eh... Ho sentito che alle 18 gioca il Milan. Eh, sì. E volevi fare un pronostico così? Sì, per me il Milan perde. Beh, eh... Io mi auguro che perde, però non credo, dai. Diciamo 2 a 0 Milan, dai. Va bene, dai, 2 a 0. E l'Inter domani? L'Inter domani... 2 a 0 a Cagliari. Ah, beh, perché adesso c'è il grande Lukaku. Il gigante buono. Ah, beh, sì, è vero. Ormai è definito così. E poi c'è anche Sanchez. Ah, beh, è vero. Il nuovo arrivato. Sì, sì. Poi? Poi c'è Lautaro, c'è Sensi, ce ne sono. Di giocatori che possono fare bene o no? Ma penso di sì. Sei tu l'esperto. Io ti ascolto e basta. Eh, vabbè, dai. Un pensiero tuo da... Da interista? Eh. Da interista potrei dire... Ma sì, dai, domani vinciamo. 3 a 0. Aspettate che mi tocco. No, scherzo, scherzo. Bene, 3 a 0 comunque è un... Un bel risultato tondo, eh? Eh, sì, infatti, dai. 3 a 0, dai. 3 a 0? Sì, sì. 3 a 0 per noi. Senz'altro. Io dico 2 a 0. Non voglio essere un po' più pesante come risultato. Anche se, cioè, con Lecce... Non ti sbilanci troppo. Anche perché comunque ti dico, giochiamo contro Lecce. Quindi non è che giochiamo... No, Lecce abbiamo giocato... Oddio, ho sbagliato. Vedi come sono riformata benissimo. Che figure che facciamo. Eh, vabbè, dai. Comunque il Cagliari, a Cagliari. Ah, a Cagliari. Mi è venuto in mente Lecce, non so perché. Ah, perché abbiamo vinto un'altra volta contro il Lecce. 4 a 0, sì. 4 a 0. Infatti, grande Inter. E di Conte cosa dici? Di Conte? Non mi esprimo, non saprei. Cioè, ti piace come allenatore, cioè, se hai visto la partita, l'Inter giochi in un modo diverso? No. Non sei d'accordo? No. Non mi sono d'accordo per niente. 12 giocatori che scendono in campo, prendono un caccio pallone, però va bene. Tutti uguali. Per me ogni partita è uguale all'altra. Poveri noi ragazzi. Che fine che facciamo. Che dire ragazzi. No, a parte gli scherzi. Speriamo di vincere domani e il Milan, spero che perda, almeno così, festeggiamo un po'. Baccao, meraviglia. Vabbè, cosa facciamo? Chiudiamo un po' che forse è meglio. Sì, sì, è meglio, è meglio. Cosa pietosa. Vabbè, comunque, un saluto a tutti quanti da Scorpione 1991. E vabbè, ovviamente, da me che gli ho fregato il canale. Però inquadrati. Vabbè, sì, è vero. Ma non hai il mio cellulare, vedi? Non sono abituata. Stai facendo Schumacher. Chiudiamo qua, va? Va bene.